No, ma perché? Ma cos'è? Oh mio Dio, ma che è? No, ogni volta concludiamo con veicoli così? Ma è un veicolo? È una mappa? Ma... Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Phanapton che parla male di mods. Dunque, abbiamo visto tante mod inutili, tante mod brutte, e questa volta non vedremo una mod inutile brutta, no, vedremo qualcosa di meglio, ossia FCB Corona Flare, capite? Oh mio Dio, questa ha un senso forse ce l'ha, una sua bellezza forse ce l'ha, ma mi pare un po' tanto fuori luogo, poi è pure sfocata sta cosa, quindi tanto per dire, vabbè, come al solito la grafica, ma te rendi con, cioè, tu guardi verso il sole e vedi sta cosa, ma ti sembra il caso? A me no, a voi? A voi sembra il caso? Perché fatemelo sapere nei commenti, tra l'altro stavo vedendo 1.04, su 5 stelle, è 12 voti, tra l'altro, diamo i commenti, mod inutili, no, non è inutile, è peggio, Serious stop mod, dude, it's use, vabbè, questo scrive proprio, skins minecraft, skins minecraft, su GTA, vediamo, vediamo che dicono su questa mod della massacro, dunque, ah, non c'è valutazione, commenti 0, ok, andiamo via, animation player switch icon, mmm, mmm, non so se aspettarmi qualcosa di buono, Perché? Non ci sono quei, non ci sono quei personaggi, li gradirei, vabbè, però non ci sono, capisci, perché mi devi mettere quelle icone? Io, io non, non ci arrivi, proprio non c'è, 0.5 su 5 stelle, ecco, commenti? Uh, Jesus Christ! E qual è il punto in tutto questo? Tegan Carason, Dutch road signs, andiamo avanti, ma meglio indietro qua, alcune le abbiamo già viste, woman loading screens, woman è il nome, spero, spero tu non intendessi woman, women, poi, in realtà, perché plural, no, invece intendeva proprio quello, what's woman? Esatto, è da un moderatore, proprio, questa domanda, perfetto, hai fatto proprio, un'ottima figura, Arrow music team, per le stesse cose, turkish loading screens, deep blue ocean 1.0, mmm, vediamo, Ma, solo a me sembra più bello l'originale, questo è desaturato, mi sembra desaturato, ma tutta l'immagine mi sembra desaturata, a destra, vediamo, ma, a me sembra veramente più bello a sinistra, poi, boh, ahah, non sono l'unico, ecco, la versione originale è più bella, secondo me, infatti, è il luogo dell'Xbox sulla luna, Bangladesh, money pack, uh, siamo noi in America, ogni episodio, ogni episodio, sempre la stessa storia, No, ma per, ma perché? Ma cos'è? Pfff, fammi sentire, questi video, me li son persi, questi meme video me li sono persi, vediamo un po'. Eh, ok, quindi... Ma perché dovrei volere sta cosa Nella schermata di caricamento Ma perché Perché Ditemelo voi nei commenti Non so Sto continuando a richiedere L'intervento del pubblico In questo video Perché non riesco a capacitarmi Di certe cose Del motivo Per cui sono state fatte Certe cose Più che altro E ha pure 4.5 su 5 stelle Cosa Kill yourself Grande Explosive bird poop mod Dovrebbe essere divertente Sta cosa Dovrebbe essere divertente Che La merda dei piccioni Sia esplosiva No Non lo è Non è divertente Ok No No Basta Shitty mod Wow Wow Non so che altro dire Per descrivere sta mod Realistic black directory Shitty text Uh Questo voglio proprio Vederlo Wow Il tirannosauro Sono curioso di vedere Le animazioni Andiamo a vedere Già l'originale Con queste immagini Proprio mi ispira Fammi vedere Un video Dai Vediamo Wow Che anima Sì ma come cazzo Ma ti rendi conto Di che animazioni Ma non farla Una mod Ma guarda Trapassa il terreno Come roba Ma non è che poi Questo si è messo in piano Magari Ha detto Mi metto in piano Perché Se no Trapassa il terreno No Si è messo proprio Qui Per andarsela a cercare Ma che idea Se l'ha ingroccato Per un momento Ah scusate Non posso dirlo Perché se no Mi censurano il video Vabbè Ve l'ho messo Gli ha lanciato la moto Ma Si vabbè Ma che schifo è Ma scusa Ma guarda te Lo sapevo Era ovvio Che facesse schifo Va Basta 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 Oh mio dio Ma che è Ma scusa Ma è fortissima La luce qua Si va Ma Ma sei rincretinito Ma ti sembra Il caso Apro il gioco Mi esplodono gli occhi Di notte invece Non si vede un cazzo Neanche Qua c'è la luce Non si vede un cazzo Neanche con la luce Guardate Si Vabbè Che Ma ti rendi Ma dovrebbe essere bello E infatti 1.19 su 5 Commenti Uno Da 1 a 5 fps Allora voglio scaricarlo E vedere quanti fps Faccio io Questa È semplicemente Orribile È come guardare il sole Bravo Non avrei saputo Descrivere meglio Questa mod Scusate Ovviamente È brutta Perché ho dovuto usare Gli file originali Per giocare online Perché non si possono usare Il visual file Per giocare online Questo è perché fa schifo E Io Apprezzo Questa mod Vabbè Vabbè Se hai dei problemi Io Non ti giudico Tanto se hai avviato GTA sotto Per favore Tutti quelli Che non l'apprezzano Provate Il gioco Provate Il gioco Dovrebbe Essere Versione Thanks for supporting La tua morte Supporterei Volentieri Quella sì Oh mio Oddio Oddio Ma che è Ma tu ti rendi conto Guarda Può essere carino Per una Una foto Per qualche Situazione Ma non Per giocare Sempre Sempre Ha il suo perché Capito C'è l'altro perché Ma per determinate foto Per sempre Poi c'è un calo Di fps Assurdo E una scala video Comunque decente È vecchia Ma è decente Ma Ci sono dei cali di frame rate Incredibili Tu ti rendi conto Guardando in alto Succede questo Si schiarisce tutto Invece di scurirsi Per far tirare Megli tagli No Si schiarisce Ma ha senso Tu guardi Questa moto è fatta Per schiarire tutto Guardate Sto guardare Il paradiso Sto guardando Oddio Aspetta Che è qui Ah perché qua No Vabbè non importa Ciao Alt f4 No Ogni volta Concludiamo con veicoli così È un veicolo È una mappa Ma Ma scusami No Questa la voglio vedere Questa la voglio vedere Il menu No è ma Editor Vabbè Proviamo Proviamo a vederla Vediamo No ma poi Adannotare la guida Che dice Move the file to the road Folder big Robot attack Game Sgt Ma cosa cazzo Vuol dire Sta frase Cosa cazzo vuol dire Allora dunque Ho caricato il file Qui non ci vedo Io ho paura Ho molta paura Sincero Beh E ma dove cazzo sta il mio robot Eh Dove cazzo sta Oh eccolo Lo sta iniziando Mamma mia Guardalo Ma immobile Oh Sì 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 Vabbè Che cazzo Sì Che ridere Fa proprio riderissimo La scimmia Il bigfoot La telecamera La telecamera Che inquadra Non so dove Ma che cazzo Eh Ma che obrobrio Ma non si muove nemmeno E quello Dove cazzo sta andando Non si muove nemmeno E quello è il fatto A parte che sta laggando tutto Per quanti oggetti ci sono Poi c'è la gente Che passa Normalmente Ehi C'è un robot Apocalittico Qua Non potete passare Capito C'è un elicottero Schiantato Con delle texture Proprio Veramente Bellissime Ecco C'è il camion Che Adesso è sparito Perché ci sono andato sopra Comunque Sì Guarda Bellissimo Dove cazzo sei Eccoti Guarda Fantastico Tutto compenetrato Brutto Questo che sta riparando Questo ha messo Tutte ste cose sopra Ma Ma scusa Ma non dovrebbe essere Immobile Cioè È ovvio che sia immobile Perché non lo può far muovere Ma A Cristo Il palo qua Oh mio Sì Va bene Ma che è La torretta Sam Poi questo Una minigun Regà Io Io non so che dire Con questo Bellissimo Scenario Con questo bellissimo Primo piano Che primo piano non è Io Vi saluto Ciao Alla prossima Schifosissima volta Alla prossima Alla prossima Alla prossima